Presidente Vendola, il Presidente della Commissione Europea, Juncker, ha avvertito l'Italia o si fanno le riforme ma sul serio, altrimenti non va bene, si va nel baratro. Lei come commenta? Ma credo che lo scandalo che ha investito il Presidente della Commissione Europea in Lussemburgo sia emblematico del fatto che Juncker è l'espressione di una coalizione di interessi che è quella che noi chiamiamo mercati finanziari. I mercati finanziari dominano l'Europa e la dominano attraverso il ricatto. Oggi fanno tremare la Grecia perché non sopportano neppure l'idea che di fronte a elezioni anticipate sia Alexis Tsipras, cioè un protagonista di una politica europea che non è quella dell'austerity, che è quella della difesa dei diritti sociali. Ecco, Juncker è il ricatto, il ricatto nei confronti del vecchio continente che deve essere irregimentato nelle politiche di austerity, nei tagli che tagliano la carne viva dei diritti delle persone. Io credo che il compito fondamentale delle forze democratiche in Europa dovrebbe essere sconfiggere Juncker, restituire lo scettro del primato alla politica e mettere in un angolo questi mercati finanziari che lottano per difendere la ricchezza dei privilegiati e per consentire ai governi, anzi per obbligare i governi a scaricare sul ceto medio e sui ceti popolari i costi della crisi. Tutto questo è inaccettabile.